Numero 1 Salmo Iraghi, numero 2 Tuveri, numero 3 Viganotti, numero 4 Renolfi, numero 5 Sironi, numero 6 Bruno, numero 7 Curatolo, numero 8 Bagdadi, numero 9 Re Fossini, numero 10 Manfroni, numero 11 Sabina a disposizione con il numero 12 Montrasi, con il numero 13 Vacirca, con il numero 14 Cervizi, con il numero 15 Bianchi, con il numero 16 Yamin, con il numero 17 Sanna, con il numero 18 Prudean, con il numero 19 Ghiraldo e il numero 20 Rogora, allenatore Thomas Forzetti Grazie, grazie, grazie Grazie. 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 Grazie.